3 milioni in più rispetto al 2018 per le strutture che erogano prestazione di specialistiche ambulatoriale come risonanza magnetica e TAC, budget inalterato per le cliniche per acuti e post-acuti. Questo l'esito degli incontri dei commissari al piano di rientro della sanità calabrese Saverio Cotticelli e Thomas Scheel con le strutture private. Buone notizie quindi da un lato, continuità dall'altro. E il tutto mentre si avvicina una data importante per la sanità calabrese. Il 4 aprile infatti la riunione del tavolo a Duce, ovvero l'appuntamento quadrimestrale con i rappresentanti del ministero che dovranno verificare l'andamento del piano di rientro della sanità calabrese, concreta la possibilità che dalle riunioni possano venire fuori buone notizie, evitare lo sforamento del disavanzo rispetto alla copertura fiscale della regione significerebbe per i calabresi evitare di subire l'aumento delle aliquote fiscali e per il comparto il blocco delle assunzioni. Un mese e mezzo quindi decisivo per la sanità in attesa che finalmente possano arrivare buone notizie da un settore che molto spesso ha fatto parlare di sé in maniera diametralmente opposta.